Sai vero coraggio, confrontiamoci alla pari. Mi dispiace. Mi dispiace di essere stata dalla parte di Tony fino ad ora. Non voglio più essere uno dei cattivi. Ti voglio aiutare. Ehi Stefano, sono qui dietro. Senti, volevo chiederti se fosse tutto ok. Ti vedo un po' giù di morale in questo periodo. Dobbiamo assolutamente intervenire. Ne parleremo tutti insieme il prima possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.